L'altro giorno mio amico mi ha mandato questo messaggio, che adesso vi leggo Secondo te, se tu non avessi lasciato il nostro gruppo, saresti arrivato lo stesso fino a dove sei adesso? E io ho pensato subito che era una domanda molto forte da fare e non ho voluto approfondire il perché di quella domanda E io ho risposto così Beh no, ma non è stata una scelta, cioè è successo e basta Quando prendi un percorso di vita, poi le cose succedono da sole Non sarei riuscito a mantenere i rapporti come facevo quando ero qua, è ovvio E comincio così l'episodio di oggi perché vi voglio parlare un po' di lasciare il proprio nido Vivere delle realtà molto piccole come ad esempio la città, ok? La piccola città, soprattutto vi parlo anche del giudizio degli altri Perché è una roba che senti molto più forte in queste piccole realtà Io adesso mi trovo a Udine, sono tornato qua da ormai penso un paio di settimane Sono scappato da Milano perché volevo, cioè non avevo più niente da fare la Milano E volevo stare un po' a casa e sono tornato qua La prima cosa che ho percepito appena ho fatto un giro in centro È stata la presenza di sguardi, cioè proprio quale persone ti guardano Ma non penso che sia una colpa degli udinesi, non penso che sia una colpa di nessuno È proprio come vediamo su, come cresciamo Io mi ricordo che anche alle superiori quando andavo in centro ero il primo a sentirmi osservato Un ok e anche a guardare gli altri, a parlare degli altri, quello uscito con quello Ho notato che anche nei discorsi che faccio con le altre persone è proprio l'argomento principale Cioè quando parlo con persone che se ne sono andate da questo posto Tutte mi parlano bene magari della città perché è tranquilla, ok? Quello non glielo toglie nessuno Però ci sono anche dei lati negativi come ad esempio il giudizio degli altri Che senti proprio tipo qua sul collo ed è difficile da mandare via Cioè è difficile da gestire, è difficile da lasciar correre Soprattutto nel momento in cui stai crescendo Quindi magari nel periodo di adolescenza In cui ti stai formando come individuo e stai capendo quali sono le tue idee Quali sono le tue direzioni, ok? Le tue peculiarità, le tue caratteristiche in quanto persona Ed essere così bloccati e frenati da questa cosa che non esiste Perché ce la creiamo tutto dentro la nostra testa Quindi appunto il giudizio degli altri, gli sguardi degli altri Non sono qualcosa di materiale, cioè non è un oggetto lo sguardo che prendi e metti via Non esiste E soprattutto non esistono tutti quei pensieri che ci facciamo noi da soli quando passiamo Perché magari proviamo a indovinare che cosa stanno pensando queste persone Ma spesso non è davvero così Perché non penso che voi in primis passiate la vita a parlare degli altri Quindi se non lo fate voi in primis non vedo perché dovreste dare anche come possibile Il fatto che altre persone lo facciano Poi magari ci sono persone che lo fanno E io lì vi chiedo ma volete, cioè davvero volete dare importanza alla parola di persone Che vivono della vita degli altri, non fanno niente di loro? Io sono sempre stata una persona che voleva crearsi, reinventarsi E tuttora lo sto facendo Ma sono lo stesso di tre, quattro anni fa quando stava cominciando E non magari credevo in se stesso ma perché magari non lo vedeva come possibile E non è che adesso visto che sono riuscito a fare qualcosina Dico, l'ho sempre creduto No, non ci ho mai creduto Cioè non ho mai... è successo molto più di quello che pensavo fosse possibile Che succedesse, ok? È andata molto meglio di quanto pensassi Quindi non voglio fare i classici discorsi delle persone che magari fanno un minimo di successo Perché hanno avuto culo e ti dicono No, io ci ho sempre creduto perché per me era scontato No, è vero che io mi sono sempre visto non appartenente a questa città E non volevo proseguire per un percorso classico, ok? Non tanto perché volessi fare il ribelle Che no, non voglio fare quello che mi dicono gli altri Voglio fare di testa mia, eccetera Ma proprio non lo sentivo mio Ci ho anche provato, parlo del, ad esempio, il percorso classico di Sei nel tuo paesino, fai l'università, trovi un lavoro Fai quello che ti piace, magari piano piano scali Solite robe, ok? Penso che questa roba... di queste cose se ne sia sentito abbastanza Del non voler stare ai canoni della società per forza Se non lo senti tuo quel percorso Poi, ovvio, è giusto provare Cioè io sono sempre dell'idea che è giusto fare È inutile stare a pensare Io l'anno scorso mi ricordo che ero molto più un thinker Cioè un pensatore piuttosto che uno che facesse le cose O magari lo sono sempre stato e mi flagellavo da solo Perché pensavo molto più di quello che facevo Ma alla fine le cose le facevo Quindi era proprio la quantità di pensieri La mole di pensieri che era molto elevata rispetto alle azioni Perché alla fine abbiamo 24 ore Quindi è anche sbagliato quello Flagellarmi troppo, lo so Secondo me è giusto provare a fare le cose Perché altrimenti non saprai mai se qualcosa fa per te o meno Anche quando magari volete approfondire con una persona queste cose Cioè secondo me fate, ok? Questo è un po' off topic Però tornando alla domanda del mio amico Che è stata appunto Secondo te, se tu non avessi lasciato il nostro gruppo Saresti arrivato lo stesso dove sei fino ad adesso Fino adesso? Vi spiego un po' la situazione Io avevo questo gruppo di amici con cui mi allenavo a basket Ok? Eravamo nella stessa squadra Uscivamo anche, ok? Dopo aver cominciato a prendere i social un po' più seriamente Ho cominciato a staccarmi un po' da tutti Ok? Perché non sentivo forse produttivo e fulfilling Si dice in inglese Cioè non mi riempiva la presenza O comunque il dialogo e il rapporto con queste altre persone E secondo me non c'è niente di male nel dire questa cosa E nel accettare che siamo fatti per altro Cioè secondo me tante persone Questo veramente voglio parlarvene come se me l'aveste chiesto voi Questa cosa Cioè tu che mi stai ascoltando Che magari fai difficoltà a staccarti da un gruppo di amici Solo perché ci sei da tanto Perché pensi di esserci affezionato, affezionata Però tu vuoi di più Non ti senti a tuo agio E quindi metti te stesso, te stessa da parte Per evitare situazioni scomode Ora, un paio di cose Prima cosa Le situazioni scomode ci saranno sempre Quindi è veramente meglio affrontarle subito Togliersi il cerotto velocemente e via Perché prima o poi no, divengono al pettine Sta roba è veramente tanto cliché Però è così Cioè è veramente così Basta C'è una storia che mi fa ridere raccontare Perché sembro tipo quei guru Che guardano all'orizzonte mentre ti parlano E ti dicono frasi fatte Però mi piace Se questa storia rimanesse Col fascino tipo della storia Che ti raccontano i... Della cultura tipo giapponese Antica Ok, però non penso che sia questo Il background di questa storia Però in breve Sta arrivando Veramente mi sento scemo Però vabbè Spero che vi sia utile questa cosa Sta... Immaginate di essere davanti a una fattoria Ok? Vedete questa bella fattoria Con mucche e buoi Dentro E siete in una fattoria però Del... Dei campi Lande desolate Atte agricoltura E... E appunto Fattoria Americane Ok? In America cosa ci sono? I tornadi Ok? Arriva un tornado Questo tornado lo chiameremo Fancella Ok? Arriva il tornado Fancella E dice Adesso vado contro quella Fattoria Bene Le mucche Cominciano a correre Verso la direzione opposta Arriva questo tornado Da sud Ok? E le mucche cominciano a correre Verso nord Perché vogliono scappare Da questo tornado Non vogliono assolutamente Che il tornado le prenda Il tornado Viaggia a una velocità Esorbitante Quindi Prima o poi Queste mucche Verranno totalmente Assorbite dal tornado E non so se avete mai visto Video Comunque simulazione Non lo so Però ci sono dei video Non so perché io abbia visto Questi video Però nell'immaginario collettivo C'è il tornado Con le mucche Che girano E volano Perché appunto Travolta da questo tornado Bene I buoi Intanto Si sono salvati Perché? Perché mentre il tornado Andava verso nord Da sud Loro andavano Verso sud Ok? Loro sono andati Verso il tornado Quindi Devi essere un bue Non una mucca No questo per dire cosa Che appunto I nodi vengono al pettine Quindi Secondo me È veramente meglio Andare contro Alle situazioni Cioè prenderle di petto E Perché tanto Le difficoltà ci saranno Nella vita E Penso che Tutti Possiamo Ammettere A noi stessi Di aver già passato Dei momenti difficili Con noi stessi E con altre persone Possiamo ammettere Di alla fine Esserne usciti Nel bene Nel male Ok? Magari feriti Magari ok Però alla fine Ne siamo usciti Quindi perché questa volta Dovrebbe essere diverso? Perché questa volta Dovrebbe caderci il mondo addosso? Cioè veramente Vi parlo di Riuscire a distaccarsi Dalla realtà Ed essere consapevoli Che noi stessi Alla fine Cioè Il mondo va avanti Il sole sorgerà comunque Ok? Non attaccarsi troppo a pensieri E persone Senza che Ne valga la pena E soprattutto se Questi pensieri Queste persone Ti fanno star male Perché non vogliamo star male Ok? Quindi poi Seconda cosa Il gruppo di amici Io alla fine Volendo fare Cioè facendo quello che volevo fare Mi sono ritrovato poi Ad avere interessi Molto diversi Da quelli che avevano I miei amici Di un tempo Io avevo Ho avuto due gruppi di amici Penso Che era quello In classe alle superiori E quello della squadra Ok? Io alla fine La quinta superiore L'ho fatta praticamente Da solo Tanto che mi ricordo I primi giorni di scuola Dovevamo scegliere il banco E eravamo in 27 E io ho preso tipo Il banco singolo Perché era una coppia da due Quello davanti alla prof E ho fatto penso metà anno Nel banco singolo Senza la paura di Oddio non avere qualcuno Con cui parlare Cioè ero Ero da solo Niente di più Niente di meno Ok? E l'altro gruppo era Della squadra di basket Però io ho smesso di fare basket Nel momento in cui Ho scoppiato la quarantena Io ero in terza Quarta superiore Ok? Tempo di arrivare in quarta superiore Ho smesso di fare basket Ho cominciato a fare palestra E anche lì la mia Voglia di stare da solo E la mia E il mio fascino Verso la solitudine È aumentato Perché poi Cominci a interessarti Le cose che ti accendono davvero Che ti importano davvero E questa cosa secondo me Ti porta poi a creare legami Che sono molto più veri Cioè in maniera molto più precisa Perché ti porta ad avere A che fare con persone Che hanno interessi simili ai tuoi Che possono Con cui puoi condividere Dei pensieri Delle idee O comunque anche parlare O nella quotidianità Quando ci vai a prendere Un caffè in centro Sono momenti che Comunque ti lasciano qualcosa Cioè non parli del nulla Sapete Non so se potete Capire bene quello che dico Non so se mi sto spiegando bene Però Avete presente Quando magari Che ne so Anche nel mondo del dating Uscite con una persona Quindi Andate ad un appuntamento E però questa persona Non vi dice niente Perché proprio Non siete compatibili E ci sta Non è colpa Né dell'uno Né dell'altro O dell'altra O dell'una Però È proprio una questione Di interessi Ed energie Ok Delle persone E quindi non è che Queste persone Questi gruppi Da cui io mi sono staccato Siano inferiori a me È semplicemente questione di Essere diversi E voler fare cose In modo diverso Loro Quando li vedi insieme Sono molto contento Che Anche tuttora appunto Gli ho rivisti Qua Udine È veramente Cioè lo dico Col cuore È veramente bellissimo Vedere come abbiano Mantenuto rapporti Costruito amicizie Perché le amicizie Lo sto capendo Ultimamente Perché a quanto pare Sentori Non aver mai avuto Amicizie così Ok Come ce le ho ora Come sono riuscita A costruirmele ora Però appunto Le amicizie sono belle Ci servono a noi Come esseri umani E quindi vedere Questo gruppo di persone Che si conosce da così tanto Che si supporta Che si manda a quel paese Senza aver paura Di arrabbiarsi È una cosa stupenda Cioè mi fa veramente Stare bene Vederlo E non capisco Perché le persone Dovrebbero aver paura A staccarsi Da un gruppo Che non sentono loro Quando in realtà Stai solo facendo Del bene Cioè Immaginate di essere In una relazione Che non vi fa bene E di chiudere Con questa persona Dovreste solo Che essere contenti Ovvio ci sta Magari il dolore Del cerotto Appena strappato Esiste Cioè È un dolore Che va processato Però poi dovreste Essere contenti Che non vi state più Facendo del male È inutile Stare a guardare Sempre le cose negative In ogni situazione Io cerco di guardare Sempre il lato positivo Quindi Piuttosto che vedere Il fatto di Ah cavolo adesso Non ho amici Non ho persone con cui uscire Non ho persone con cui parlare Confidarmi Per quanto Non potesse Non essere il mio interesse Al tempo Perché magari Non la vedevo Come una cosa Utile Ok Ero molto solitario Veramente tanto solitario Ora lo sono Drasticamente di meno Ma Mi è rimasta con l'indole Io ci ho visto Tutte le cose positive Quindi tipo Il tempo in più Era a dedicare Ai miei interessi Ad approfondire Le mie passioni E perseguire il percorso Che volevo Che volevo fare E queste sono tutte cose positive Cioè non vedo perché Dovrei essere Infelice Scontento Di Dei cambiamenti In generale Ok Perché secondo me Non esistono Cambiamenti positivi O negativi Cioè sì Ok Però ogni cosa Arriva con anche L'altra faccia della medaglia Sono molto convinto Che dobbiamo scegliere I nostri rimpianti Dobbiamo Scegliere le cose Di cui Essere Tristi O essere infelici E che sono alla fine Il prezzo da pagare Per essere Dall'altra parte Soddisfatti E contenti E pieni Della propria vita E quindi perché non concentrarsi Su questo lato Sulle cose positive Perché alla fine Se possiamo scegliere A cosa pensare È inutile stare a pensare Alle cose negative E rimuginare Sulle cose Solo per star male Perché appunto Cioè se puoi scegliere Perché devi star male Stai bene a sto punto No Quindi per concludere Questo episodio Poi voglio dirvi Un'altra Un'ultima cosa Non abbiate paura Di essere voi stessi Collegandoci al giudizio Degli altri Dei pesini Eccetera Io Qua a Udine Mi sono portato Dei vestiti È un esempio Molto banale Molto scemo Però mi sono portato Dei vestiti Che qua a Udine Difficilmente Le persone Comunque ragazzi Mettono Perché qua i ragazzi Si vestono tutti Tipo Old money Con la polo Con le cose Cioè si vestono In modo molto Direi quasi Elegantino Ma anonimo Ok Che anche io Ogni tanto uso Cioè tipo Lo stile Old money È molto anonimo Cioè Di per sé Devi saperlo portare Magari devi usare Un po' di più Però adesso Che mi sta piacendo Vestirmi Con il mio stile Mi sta piacendo Scoprire Come Mi piace vestirmi E il mio stile Appunto Mi sono portato Magari quel paio Di pantaloni Con la maglietta Che qua Nelle piccole città Comunque non vedi Ok Tanto che Mi ricordo Sono andato a A trovare Insomma Delle persone vicine A mio padre Ok Senza andare troppo Nei dettagli E una di queste Quando mi ha visto Arrivare Un ragazzo Più grande di me Mi ha visto Con questi pantaloni Che sono tipo A strisce colorati Ok E mi fa tipo Ah direttamente Da Zanzibar Ok Perché ha questo modo Molto diretto Di scherzare Però È esattamente Quello che Che può succedere Tipo nella mente Delle altre persone Quando mi vedono in giro Cioè mi dicono Magari ma Cioè pensano magari Ma dove pensa di andare Quello là Ok E ci saranno Questi pensieri Però Non lo so Magari sono diventato così Egocentrico E convinto di me stesso Che Mi piace Mi piace quasi Far parlare di me Essere divisivo E E sapere che Mi guardano Ok Perché so che Io sto facendo il mio E mi sono allenato Tanto su questa cosa Cioè prima mi venivano Gli attacchi d'ansia Quando giravo Per Per il centro Anche prima di fare social E Proprio perché Alla fine Alle superiori Ci si conosce tutti E mi sono allenato Ad andare in giro E quando mi capita Il momento di Oddio Sei fuori Ti stanno guardando Occhio a come ti comporti Però poi diventi super In allerta Riguardo a ogni tuo minimo movimento Quindi cerchi di Calibrare tutto E Dai peso anche a come Appoggi la mano Sul tavolo E cominci a Cioè Pensate Non avere tutti quei pensieri E smettere di sprecare Tutta quell'energia mentale Per ste cagate E piuttosto concentrarsi Sul presente Su quello che stai facendo Quindi se sei uscito Per berti un caffè Ti godi quel cavolo di caffè E smetti di pensare A ste cagate Ok E E io questo me lo dicevo Di continuo Dico ma perché Giole ma davvero ha senso Pensare a sta roba Cioè La gente Secondo te Ti guarda E diciamo Guarda come ha appoggiato il braccio Cioè anche se lo fa Che scema Cioè cosa vuole Ok E quindi secondo me La prima cosa Che ho fatto Per smettere di Di dar peso Al giudizio degli altri È Smettere di dare il peso Agli altri Perché se sono io Il primo a fare Una cosa Posso capire come sia possibile Che gli altri Non lo facciano Ok Quindi io Vi saluto Vi ringrazio Vi invito a seguire Questo progetto Questo podcast Lasciatemi domande Come magari ha fatto Il mio amico Che mi ha chiesto Se il mio staccarmi Dal gruppo di amici È ciò che mi ha permesso Di ottenere successo O meno Seguitemi In base a dove mi state guardando Se su youtube O spotify Insomma Per supportare Il progetto E io vi ringrazio E ci vediamo Il prossimo lunedì A un altro episodio Di dentro la mia testa Ciao